I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Modica, con il supporto fornito dai militari di tutte le articolazioni dipendenti e dal nucleo elicotteri di Catania, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di cinque persone, una finita in carcere, due ai domiciliari e due con l'obbligo di dimora. Gli indagati, tutti residenti e domiciliati tra Scicli e Donna Lucata, dovranno rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, aggravata poiché commessa in concorso tra loro, tra questi una donna che dovrà rispondere anche dell'aggravante di essersi avvalsa di minorenne. Durante le indagini intraprese a partire dal mese di aprile 2022, i militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Modica hanno potuto constatare numerose cessioni di marijuana, ascisce e cocaina che hanno avuto come acquirenti, tra gli altri, anche un minore. La presenza costante dei carabinieri sul territorio della città barocca e i serrati controlli effettuati con la finalità di stroncare questo allarmante fenomeno sociale ha consentito di scovare ambiti e infrastrutture destinate allo spaccio. Durante le quotidiane attività di indagine, i militari dell'arma hanno accertato che i protagonisti dello spaccio utilizzavano come metodo per eludere i controlli da parte delle forze dell'ordine lo spostamento dello stupefacente attraverso i mezzi di trasporto pubblico della linea urbana ed extraurbana. La procura della Repubblica Iblea, sulla base delle risultanze investigative fornite dai carabinieri che hanno condotto le indagini e che hanno potuto constatare le cessioni e le movimentazioni dello stupefacente che si muoveva dalla città di Catania, dove pusher erano soliti rifornirsi sino a giungere a Scicli, condividendone in toto l'operato, ha richiesto al giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Ragusa l'emissione delle misure cautelari personali. L'articolata attività di investigazione, conclusa ad ottobre 2022, ha consentito dunque di appurare circa 90 cessioni di droga e identificare più di 20 acquirenti, tra cui, come detto, anche un soggetto minorenne. L'approvvigionamento, che avveniva tramite fornitori catanesi, ha movimentato denaro contante per un valore complessivo di circa 15 mila euro.